Il regime è tutto indasciato di migliaia di persone che dicono no, che dicono no, che dicono no. Questo qui è un colpo di Stato, non è un governo. Un partito democratico cosiddetto da lui stesso e un altro partito che si è venduto al partito democratico dopo aver raccontato un sacco di frottole ai propri elettori facciano una cosa del genere. Questa si chiama dittatura. L'Italia! 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 No, 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 parla così. Elezioni subito, elezioni subito, elezioni subito. La idea, cari amici, è quella di metterci in un angolo. A differenza di quello che voi siete, un atto offensivo nei confronti della dignità del nostro popolo, che ha scelto in questi ultimi anni alcuni partiti, con un'attenzione particolare nei confronti del sud del nostro paese, che conosce problematiche aggiuntive in termini senza inciusi di palazzo, ma dobbiamo anche intestarci un'altra battaglia, lo dico da sindaco di una... ... praticamente hanno bloccato tutte le vie di accesso al Montecitorio, quindi ci hanno impedito di manifestare. Non è una questione di sicurezza, signora. No, non è una questione di sicurezza. Quando io parlo a loro, le questioni di sicurezza non ci sono. Ci dovevano permettere... Certo, poi è diventato... La gente si è ammassata e abbiamo rischiato veramente di che succedesse qualcosa di grave, perché la folla spingeva, hanno bloccato tutte le vie di accesso come lei vede bene, a Montecitorio, quindi ci hanno impedito di manifestare. Fermi, ma non c'è verso di entrare, non c'è verso di entrare. Quindi sono venuto, ho lasciato l'azienda, dipendente, tutto quanto per stare qui. E qui ci troviamo, qui chiusi come... Sono due ragazzini in mezzo alla strada, qua. No, non so l'ordine pubblica. Sono capito, ma questi dei vicendi fanno passare la gente, allora ho tutto, nessuno. Lo so capiti? Cioè, che facciamo? Non lo capisco. Non lo capisco. No, di D'Alema, i Renzi, gente che non hanno neanche più la fiducia dei loro condomini. Segnatevela questa data, 9 settembre. È la data della primavera della sovranità contro il palco del bontrone. È la data del Vaffa Day della piazza sovrana nei confronti dei grillini.